Onestà e serietà per Mimmo. Grazie. Frutta secca, legumi, olive, insaccati, dolciumi, formaggi, mozzarella di bufala campana. Ma che sapore, che bontà, da Mimmo trovi veramente la qualità. Tutti noi mercoledì e sabato veniamo a prendere mozzarella, tarallucci e le olive da lui, che sono eccezionali. Nei mercati di lunedì Gatteo Mare, martedì Savignano sul Rubicone, mercoledì e sabato Cesena, giovedì Gambettola, venerdì Cesenatico. Così con tutta la busta, 10 minuti in acqua calda, in un sciatolo con l'acqua calda, in modo tale che si fa come uno shock termico al contrario, che la mozzarella si dilata e spingiona tutta la sua sembrità.